Benvenuti su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione. Oggi in tutta la Toscana è stato il giorno dell'IT Alert, il sistema di allarme pubblico per avvertire i cittadini in caso di calamità. Con un'incredibile coincidenza il messaggio è arrivato a pochi minuti da una scossa di terremoto. Vediamo. Attorno alle 12 tutti o quasi i telefoni della Toscana hanno suonato all'unisono per il test di IT Alert, il nuovo sistema d'allarme pubblico per le gravi emergenze. Una manciata di minuti dopo una scossa di terremoto nel Senese. Insomma una coincidenza che è davvero dell'incredibile. La scossa di magnitudo 3.7 è stata infatti registrata in Toscana alle 12.19. L'epicentro appoggia i bonzi ma il sisma è stato avvertito anche a Firenze e ad Arezzo. Immediata l'ironia sui social c'è infatti chi si chiede quante possibilità c'erano e chi ancora se sia solo una coincidenza ed infine chi scherzando definisce il test più che riuscito. Sempre tramite social c'è però anche chi segnala di aver ricevuto in ritardo il messaggio o addirittura di non averlo ricevuto proprio. Qualcun altro invece è stato spaventato dall'insolita notifica. Non tutti infatti erano a conoscenza del test. Il sistema di allarme pubblico della protezione civile ha lo scopo di avvertire la popolazione in caso di pericoli legati alle calamità o altri eventi. funziona con un messaggio e un particolare allarme sonoro inviato sui cellulari di tutti i cittadini presenti nelle aree interessate. Questa fase di sperimentazione del sistema IT Alert durerà infatti sino al 13 febbraio 2024. Ancora cronaca tir in fiamme lungo la E45. Il traffico lungo la corsia nord della statale Trebis Tiberina è stato a lungo interrotto a causa di un mezzo pesante in fiamme all'altezza di Sansepolcro. Il traffico è stato deviato sulla strada statale 73 con uscita a San Giustino e rientro a Sansepolcro Sud. L'arteria è stata riaperta solo in tarda serata. Maxi operazione della Guardia di Finanza che ha sequestrato 34 tonnellate di pellet e un intero impianto di produzione a Bibbiena. Vediamo il servizio. Un intero impianto di produzione di pellet e 34 tonnellate dello stesso materiale sono stati sequestrati dai finanzieri di Poppi in un opificio con sede a Bibbiena. L'enorme quantitativo di combustibile è stato prodotto, secondo gli inquirenti, confezionato e posto in vendita in totale assenza delle autorizzazioni in materia ambientale e anche in assenza del certificato di prevenzione incendi. L'intervento dei finanzieri è stato coaiuvato anche dai Vigi del Fuoco e dall'ARPAT di Arezzo. Sequestrate anche 4 tonnellate di legno, segatura e cippato stipate all'interno degli appositi contenitori pronte per la trasformazione in prodotto finale. Secondo la Guardia di Finanza c'era anche la mancata presentazione della scia, ovvero la segnalazione di certificato di inizio attività al Comune competente e varie irregolarità concernenti la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il rappresentante legale della società è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Arezzo. E adesso parliamo di meteo perché secondo il bollettino emesso dal servizio meteoregionale la Toscana è interessata da un'allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico. Tra le zone a rischio sia di temporali sia per il rischio idrogeologico in provincia di Arezzo figurano il Valdarno e il Casentino. Lo stato di allerta perdurerà fino alla mezzanotte di oggi mentre domani, giovedì 29 giugno, la situazione tornerà alla normalità. E adesso parliamo di politica. L'aria è tornata irrespirabile in un'ampia periferia del territorio comunale corrispondente alla fascia che da un lato parte da Chiani e Leipogiola e raggiunge San Giuliano e dall'altro si propaga da San Zeno fino a Dolmo. A dirlo sono i consiglieri comunali di Scelguarezzo che hanno annunciato una interrogazione specifica in consiglio comunale. A reclamare risposte spiegano ancora i consiglieri non siamo tanto noi quanto i cittadini che manifestano stanchezza e preoccupazione. E adesso parliamo del nuovo disegno di legge per quanto riguarda il codice della strada che nelle ultime ore è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. La riforma prevede una stretta su alcol, droga e cellulari ma anche sui monopattini. Vediamo le principali novità. Non si sarebbe mai messo al volante con le nuove norme del codice della strada. L'uomo che lo scorso maggio era appena tornato in possesso della patente e si era messo di nuovo ubriaco alla guida ed aveva travolto ed ucciso una donna, Vanessa Bonatti di 50 anni. Una tragedia che si era consumata in provincia di Arezzo. Erano le 10 di mattina. Per chi è recidivo soprattutto non possiamo pensare che non valga nulla o sia equivalente a chi non è mai successo. Adesso il disegno di legge sulla sicurezza stradale approvato dal Consiglio dei Ministri prevede una stretta su chi si mette alla guida ubriaco sotto effetto di stupefacenti. Tasso alcolemico zero per chi è già stato condannato per aver guidato in stato di ebrezza per i recidivi previsto poi anche l'obbligo di montare l'alcol lock sull'auto. Tutto ciò che può essere blocco per chi anche alterato è obbligato a fare perché è un automatismo e tutto è positivo. Linea dura anche per chi tiene una mano sul volante e l'altra sul cellulare. Infatti è prevista la sospensione della patente per un periodo che va da 7 a 15 giorni. La prima causa di incidentalità al netto di tutto è la distrazione. Purtroppo questo lo comporta non tanto il fatto di telefonare che è già grave ma è l'utilizzo dei cellulari come strumento per chattare. Se io prendo il cellulare, lo guardo e poi torno a guardare la strada è chiaro che quell'interfase tra la concentrazione e lo sguardo sul cellulare e sulla strada passa quei secondi, quei decimi di secondo ma comunque del tempo è come se viaggiassi bendato e quindi succede il disastro. Tra le misure di prevenzione previste nel disegno di legge infine corsi di educazione stradale. Tante persone purtroppo hanno potuto capire questa cosa solo dopo l'incidente e questa è troppo tardi. Altri 80 mila euro per il progetto Tempo Bello 2.0. La Giunta di Arezzo ha deliberato la destinazione di ulteriori risorse ministeriali vincolate alle attività estive e di doposcuola ampliando in questo modo l'offerta delle attività ludico-recreative destinate alle famiglie sostenute fino ad oggi solo grazie a risorse municipali. Il nuovo click day per l'accesso al servizio per il quale è necessario avere a portata di mano l'attestazione ISEE sarà martedì 4 luglio alle ore 13. Con nuove risorse saranno oltre 1.800 i voucher erogati per il Tempo Bello. Una risposta importante all'esigenza diffusa delle famiglie sostiene il vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti perché così possono contare su un sostegno concreto alla gestione della propria quotidianità in questi mesi nei quali la normale attività didattica è sospesa. E restiamo ad Arezzo dove ci sono cantieri fermi. L'assessore Sacchetti valuta di ricorrere alle carte bollate per la rescissione del contratto. L'assessore del comune di Arezzo con delega alle grandi opere Marco Sacchetti ad ammettere che la situazione del cantiere di via Fabio Filzi dove dovrebbe sorgere la nuova caserma dei vigili urbani di Arezzo è imbarazzante. Difficile ammette ipotizzare che tutto si possa risolvere ma i passi da fare vanno ben ponderati. Una situazione peraltro simile in un altro grande cantiere. Delle tre opere pubbliche di cui io ho la delega e sono la caserma di via Filzi, il nodo di via Fiorentina e il raddoppio della canna del Baldaccio, diciamo che ci sono notizie positive e altre negative. La doppia canna del Baldaccio è un'opera strategica che è in corso di esecuzione e sicuramente questa vedrà la sua terminazione entro l'anno sicuramente. Sulle altre due opere no, perché la volontà del committente di portare a termine l'opera c'è perché abbiamo agito in tal senso per consentire di eliminare tutte le potenziali problematiche insite della realizzazione di queste opere. purtroppo per ragioni diverse, perché la natura dell'appalto tra la caserma e il nodo di via Fiorentina sono completamente diverse, cioè il primo è un leasing costruendo, cioè una concessione di lavori pubblici, l'altro è un appalto puro. Per cui le ragioni, l'effetto è in medesimo, cioè i lavori non vanno come dovrebbero andare nelle tempizze previste e facendo una proiezione sui tempi, ovviamente si sforano molto i tempi contrattuali inizialmente previsti. Le ragioni sono diverse, sulla caserma inspiegabili e quindi anche lì ora bisogna chiaramente capire se ci sono le condizioni per intraprendere delle scelte forti. Faremo a breve un ulteriore incontro tecnico-politico per capire effettivamente se ci sono le condizioni o meno per intraprendere delle scelte forti. Scelte forti vuol dire la recensione del contratto per il impimento di una parte. Questo è l'ultimo evento che noi come giunta ci aspettiamo perché chiaramente vuol dire poi ripartire da capo di fatto e quindi prima di arrivare a questa soluzione bisogna pensarci bene, però se non ci sono altre alternative, se l'impresa non dimostra concretamente la volontà di procedere, lì so che ci sono dei grossi problemi, ci sono dei problemi anche di natura finanziaria, ci sono dei fornitori che risulta che non sono stati pagati, ci sono dei debiti lasciati, quindi c'è una situazione anche delicata, molto delicata. Bisogna muoversi in maniera opportuna senza ovviamente mettere a rischio nulla e nessuno. E adesso spostiamoci in Val di Chiana perché a Cortona fino all'8 ottobre tutto parlerà di Luca Signorelli, persino bar, ristoranti e negozi. I commercianti infatti si sono preparati per tempo ad accogliere i tanti visitatori che arriveranno per vedere la mostra dedicata al grande artista cortonese nel cinquecentenario dalla sua morte. Grazie all'iniziativa della ConfCommercio realizzata in collaborazione con la Proloco di Cortona, ogni locale e ogni punto vendita espone la simpatica sagoma del pittore disegnata dal fumettista Roberto Conserva che ha ideato anche la grafica per le tovagliette. Un modo simpatico e originale per coinvolgere ogni attività nel grande evento che contrassegna la stagione turistica cortonese. Fra le varie iniziative c'è anche l'annullo filatelico in programma il primo luglio dalle 9 alle 13 e 30 nel cortile di Palazzo Casali e anche l'esposizione di bottiglie di vino con la speciale etichetta. Ieri sera il Rotary Club Arezzo ha celebrato il passaggio del collare, la guida passa così da Alberto Papini a Marco Genalti. Vediamo. Il Rotary Club Arezzo ha celebrato il passaggio del collare, la presidenza del Club Service adesso passa così da Alberto Papini a Marco Genalti. Lascio il testimone a una persona di grande spessore, di grande spessore perché sono convinto che è un profondo osservatore ed è uno studioso. Lui mi ha osservato molto in questa annata e sono convinto che farà delle grandi e belle cose perché è una persona di grande spessore. Innanzitutto a lui piace essere definito professore prima di commercialista e il termine professore richiama la scuola quindi è una persona che sa studiare ma soprattutto sa insegnare agli altri. Colgo il testimone che mi passa Alberto con grande responsabilità e anche con la consapevolezza che dovrò cercare di fare il percorso nell'ottica di un'ulteriore importante annata a disposizione della collettività. Si chiude così con un bilancio più che positivo l'annata appena trascorsa, la prima in epoca post pandemia con lo sguardo già verso i prossimi obiettivi. Abbiamo fatto delle belle cose, ci siamo in parte divertiti e ci siamo anche fortemente impegnati. Una su tutte è il restauro della chiesa di San Lorenzo, la chiesa più storica della città di Arezzo, ma poi sono state fatte anche piccole cose ma che nei contenuti e soprattutto nell'animo sono grandi cose. Una cosa è certa, ci sarà una continuità con l'opera svolta da precedente Presidente, cercheremo di portare il Rotary ancora di più all'attenzione e al servizio della comunità. Questo è l'elemento che deve fare la differenza ed è per questo che ci ruotiamo e ognuno di noi deve dare il proprio contributo al massimo. Il salotto a cielo aperto di Piazza della Chiesa a Montagnano è pronto ad aprire le sue porte. La 32esima edizione del premio europeo di teatro popolare Il Giogo si prepara ad ospitare compagnie provenienti da tutta Italia. Un lungo weekend di spettacoli apre la prima settimana di rassegna che si completerà la settimana successiva con altri quattro appuntamenti dove il teatro sarà l'assoluto protagonista. Si parte giovedì 29 giugno fino a domenica 2 luglio e saliranno sul palco quattro compagnie di teatro popolare provenienti dalla Toscana, dall'Umbria e dalla Campania. E in questo fine settimana torna anche ad Arezzo la campagna anti-abbandono promossa dall'EMPA. Vediamo. Quest'anno basta scuse. Questo è il tema della campagna anti-abbandono lanciata da EMPA ed abbracciata anche dalla sezione Aretina, una campagna di sensibilizzazione che torna come ogni anno con l'inizio della stagione estiva. La sezione Aretina sarà in piazza a Sai Jacopo il primo e il due luglio dalle 9.30 alle 19.00. In oltre 250 città italiane fanno sapere ci impegneremo a difendere i nostri amici animali per dire basta all'abbandono. Il fenomeno nel nostro territorio è molto contenuto ma è la stessa cosa purtroppo non può dirsi per altre città italiane o peggio intere regioni. Abbandonare concludono è un reato, adottare in canile è un dovere sociale. Se infatti da un lato aumentano abbandoni e cessioni di animali domestici le adozioni sarebbero diminuite ma non solo. Nella maggior parte dei casi chi adotta desidera avere un cucciolo non considerando gli animali adulti ospitati in canili e rifugi. Novità della campagna antiabbandono in fine di quest'anno sarà che presso il banchino di piazza Sai Jacopo sarà possibile effettuare lo scambio delle figurine degli amici cucciolotti che da anni porta un aiuto concreto in tutto il territorio nazionale ad Empa. In bici con il CT e questo il titolo dell'iniziativa di Castiglione Fiorentino. Metti è un commissario tecnico, Metti che appena può ritorno a casa Castiglione Fiorentino è il paese dove è cresciuto e dove ha iniziato ad amare la sua fedele bicicletta. Metti poi che è un vulcano di idee che non si ferma mani. Nasce così in bici con il CT pedalata con Daniele Bennati sabato 8 luglio a Castiglione Fiorentino. Il ritrovo è previsto per le ore 9 in piazza Garivaldi. Una pedalata di gruppo alla quale sono stati anche invitati a partecipare atleti, semplici sportivi e tra gli altri anche gli ospiti delle strutture ricettive. Un modo questo per promuovere il territorio Castiglione Fiorentino ma anche la Valdichiana scoprendo un patrimonio naturalistico unico nel suo genere. E per quanto riguarda la pagina sportiva parliamo di basket perché la scuola Basket Arezzo è lieta di comunicare la conferma di coach e Marco Evangelisti in vista della stagione 2023-2024. Dopo la splendida cavalcata che ha portato alla promozione dell'Amen SBA nella finale playoff contro il Prato, il tecnico valdarnese siederà ancora sulla panchina amaranto anche nel campionato di Serie B interregionale. Questa conferma, conferma appunto commenta il presidente SBA Mauro Castelli, è la giusta ricompensa per il risultato ottenuto nel corso di questi anni alla guida della nostra prima squadra, culminato con l'esaltante promozione in Serie B. Dare continuità al progetto tecnico era la nostra priorità in vista del prossimo campionato. Le parole queste di coach Evangelisti, sono contento di continuare il percorso, vincere la C-Gold è stata una grande soddisfazione. Adesso dobbiamo riuscire a mantenere quello che ci siamo conquistati con tanto sacrificio. Sarà un campionato difficile e tutto da esplorare, di sicuro daremo il massimo e cercheremo di andare sempre sopra i nostri limiti. E dopo il debutto assoluto dell'estate scorsa, il comitato Orgoglio Amaranto con il patrocinio del comune di Arezzo rilancia con la seconda edizione di Orgoglio Amaranto in festa caratterizzata da un cartellone ancora più ampio e variegato. La tre giorni pensata non solo per i tifosi Amaranto ma per tutti gli aretini si terrà da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio al Bagnoro, grazie al contributo prezioso della Proloco di Bagnoro che anche quest'anno metterà a disposizione le proprie strutture e l'area verde dove annualmente si tiene la festa della ciliegia. Ogni sera gli stand saranno aperti dalle 19.30 con possibilità di aperitivi e cena con cucina tipica e pizza. E questa era anche la nostra ultima notizia io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.